Inziata la tipica fase in cui ci imbattiamo regolarmente ogni volta che l'Occidente va a combinare disastri in giro in qualche paese straniero e poi all'urgenza di apparire con la faccia del buono. Diceva Gino Strada, e lo ripete spesso anche sua figlia Cecilia, che per fare bene la guerra bisogna imparare a usare bene le parole che servono per compiere la truffa in modo chirurgico. Ad esempio le missioni di pace, che sono stracariche invece di armamenti, oppure le bombe che dovrebbero essere intelligenti, o peggio ancora i cosiddetti danni collaterali, dove per collaterali stanno i vicini, innocenti, rimasti, ammazzati per terra. Ecco, tutto questo rende perfettamente l'idea di un'operazione di disinfestazione utile per far apparire vero ciò che invece non lo è. Le foto dei soldati che salvano i bambini, ad esempio, sono certamente funzionali per una superficiale impressione in cui i buoni sono talmente buoni da apparire salvifici. E i bambini vengono tratti in salvo grazie all'attenzione dei soldati occidentali che con le loro mani li strappano all'inferno. Però quei bambini vengono strappati alle loro famiglie che non sanno mai se riusciranno a mettersi in salvo da una situazione tra l'altro provocata dagli stati di quei soldati, quelli che vorrebbero apparire come salvatori. Non solo, sono gli stessi soldati che puntano i loro fucili anche contro i bambini nei campi profughi sparsi in giro per il mondo. Non solo, sono gli stessi soldati che hanno addestrato quelli che oggi sono diventati i carnefici, sono gli stessi soldati che per vent'anni hanno esportato la democrazia a suon di bombe. Certo, non è facile tenere la barra dritta, mantenere un equilibrio di osservazioni, restando lucidi anche per una sorta di ecologia lessicale. Però, si è detto, questa insopportabile trasformazione in buoni è indecente e soprattutto è immorale. Allora, ieri in Italia è esplosa la fiabesca narrazione di Tommaso Claudi, definito ambasciatore su tutti i siti dei principali media, mentre viene fotografato e indaffarato anche lui a salvare bambini. Peppe Marici, portavoce del ministro degli affari esteri di Maio, ha confezionato un tweet zuccherosissimo. Dice, oltre quel muro c'è la speranza, grazie al nostro console a Cavul Tommaso Claudi, non si sta risparmiando se sta sosta fino all'ultimo. Benissimo. Peccato che Claudi, persona tra l'altro dalle indubbie qualità morali, visto che cosa sta facendo, e visto soprattutto il suo coraggio e la dedizione alla causa, però non sia console, ma semplicemente basta controllare il suo curriculum secondo il segretario generale. Lo fa notare bene anche Mazzetta su Twitter. E questa morbida narrazione serve per non dire che l'ambasciatore vero, Vittorio Sandelli, se ne è scappato, cioè se ne è filato via in Afghanistan, fretta a fure, armi e bagagli, è andato via. Non solo la Farnesina, nei giorni scorsi, ha confezionato una nota esultante in cui dice, giuro, andate a vederla, che l'ambasciata italiana a Cavul è stata ricostituita. E uno dice, bene, udite udite, dove? A Roma. Sembra uno scherzo, lo so. In quella nota si dice che a Cavul è rimasto un presidio diplomatico, che altro non è che il povero Tommaso Claudi, facente funzione di console, ma che non lo è, visto che tra l'altro non esiste nessun consolato italiano in Afghanistan. Ora, a qualcuno potrebbe venire il dubbio che il nostro ambasciatore sia stato ritirato per motivi di sicurezza. Allora vale la pena sapere che l'ambasciatore britannico è molto apprezzato in patria, proprio perché è ancora lì. L'ambasciatore tedesco incontra e tratta personalmente con i talebani. L'ambasciatore francese a Cavul viene descritto come indaffaratissimo. L'ambasciatore spagnolo a Cavul dice che non rientrerà, l'ha detto lui stesso, fino a che l'ultimo spagnolo e l'ultimo collaboratore degli spagnoli non avranno lasciato l'Afghanistan. E se vi è capitato di leggere sui giornali in questi giorni persone entusiaste per l'italiano Pontecorvo, definito anche lui ambasciatore, beh, sappiate che lavora per la NATO. Questo è solo un piccolo esempio, eppure racconta moltissimo della comunicazione in tempi di guerra. E qui, se ci pensate bene, siamo sempre in guerra. Pensate come sta messa la comunicazione. Buon mattino.